vabbè qua non ce ne sono allora adesso vi faccio vedere come esplodere e di stare molto attenti perchè allora qua facciamo prima che spacchiamo tutto non sto sparando non sto facendo niente ok poi buttiamo giù la scala può servire e qui non c'è niente giusto? no infatti ah no qua non si sa mai non mi ricordo mai ecco perfetto voi sicuramente starete pensando ma come mai qua c'è quello lì che sembra che ci vede invece non ci vede e invece è perchè è qua sotto il mostro che è il boss diciamo sai quante volte mi è successo mentre c'era il mostro che lui due ore così allora qua troviamo una madonna oh ma che male e un po' di roba qua non mi serve niente qua niente e questo guardate sta benissimo non chiedetemi perché per come per cosa ma io mi ricordo che c'era un coso che mi faceva andare giù ah eccola là infatti no di là devo fare tutto il giro adesso vi faccio vedere non no a parte che finché non azionate diciamo il video qua non appare nessuno vedete finché non dice eh ma io avrei bisogno di un una motosega lui non ha pane quindi aspettate prendete tutto quello che vi serve e poi si ci sono i maiali e potete ammazzare anche i maiali io vi faccio vedere tutto e poi cavallo ti ho visto ah uh uh eh sì ciao ormai vediamo se riesco ma come cacci hai fatto a vedermi sì c'è questo qua che vi spara ragazzi cazzo devo trovare il riparo eh no e dove sei adesso moncolo ah già mi stavo dimenticando che qua c'è ragazzi io non so se mi ma l'avevo festa scompirla scusate non so se mi va bene allora ok oh ma 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 perfetto boom te no porca puttana ma se ti stavo scolpendo prima io scolpendo poi c'è qualcuno qua dietro è un po' perca puttana oh eh sì io poi ho una mia io odio i giochi no non è che non li odio ma non ho mira ah non ho non ho mira è inutile non so è inutile ma non ho mira sono storta facca polenta eccola lì la madonna la madonna come la chiamano come la chiamano scolpendo via perché so che io finirò male c'è ma cosa d'è questa si chiama revi sei un genio beh ma cosa dove ho andato chi è che mi ha visto no non ha visto nessuno no era allora soltanto il tipo eh vabbè piano 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 ah eccoci ah sfigato vieni qua no non sei più sfigato perché io sto sfigato eh vaffan cuore brutta baldrà minchia sto morendo minchia sto morendo dove è no non questo no ecco sì non è proprio quello che ci voleva adesso muovete e queste sono le cose che io non sopporto in questo gioco è inutile proprio vieni qua dai vediamo così se ti piace eh oh oh povera zoccola grazie è qua quanto piano facevano ok ce n'era uno porca di quella zoccola che uscì no non mi vieni ovviamente quando io registro mi chiama il mondo tutti mi chiama oh questi prendiamoli che ovviamente fanno benissimo che sono gli arpioni tanto lì c'è la tipa che non si muove sta lì alla finestra che guarda il suo amato tutto quello che te lo faccio vedere io l'amato ah fucile delle mie brame pieno poi ok vabbè parto un paio di errori non mi è andata malissimo non malissimo eh cioè neanche bene però cosa devo fare non sono anche perché quando registro gameplay sono sempre molto nervoso più che altro sempre sempre popolo bastardo così in fretta una mano mi farebbe comodo la prego facciamo in fretta dobbiamo trovare Leslie prima che eh sì fai il soccolone vai vai a caga va qua l'abbiamo fatta andiamo giù dove cacchio è no qua allora adesso in teoria ci sarebbero due o tre mostre ancora non mancano tanti devo guardare ah no adesso c'è quello che cade poverino è un miglior a bove ah ecco no non hai capito vai vai di là vai di là ma bocca putta stai fermo perché mi può andare bene ok dai 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 ok perfetto uno brucia almeno c'è al posto mi dai qualcosa no allora qui intanto vi posizionate qua e sparate là potete cominciamo bene eccola alleluia eccola qua poi qua sopra poi ce ne dovrebbe essere un'altra se non sbaglio adesso guardiamo Allora ne abbiamo prese due Ce n'è una appesa Che l'avevo chiamata la madonna appesa Anzi tre Quattro Questo qua che è stordente Sì E questi Ok Allora Tuttati giù Tanto sei immortale Evidentemente adesso qua Spacchiamo tutto Non mi interessa Spacco Non vedo niente Ok Spacco tutto Allora La madonna appesa Ok Non me lo ricordavo Vai Ok Almeno uno lo facciamo fuori Guarda che capito Dov'è? Scusa dove sei? Ostia la madonna Vai 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 così Posto Che bravo Non è vero Ho avuto un culo assurdo Non è qualcosa No C'è una madonna appesa E lui dovrebbe essere più avanti Eccola là Ok E quello è l'ultima tipa Che dobbiamo far fuori Se non sbaglio Non voglio dire cazzate Orco giuro Ho fatto rumore Allora Eccolo Eccolo Perfetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Ora... Vi consiglio... Di fare così. Che intanto parte così il filmato dove dice... Mi serve una motosega? Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. E magicamente appare quello con la motosega. Ok. Non dovrebbe esserci più nessuno. Quindi. Alto là. Chi sei tu? L'ho visto. Porco. Ah no, no. Cazzo, vieni qui. Sei veloce, dai. Dai, però, quando... Queste sono le cose che non sopporto. Non le sopporto. Mi danno fastidio. Stronzo. Allora. Adesso vi faccio vedere una roba. Tanto questa la mettiamo qui. E prepariamo i dardi. Esplosivo. Oh, figa. No, questo no. Questo sì, ma ne abbiamo già due. Questo qua. E questo non serve a niente. Ah, già. Ho dimenticato. Mettiamo anche il fucile. E... Questa nel caso. Ora, prepariamoci. Un signor, ragazzi, che è bello veloce, tipo. Che vaffan... Aiuto. 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 Sì, sì. Ha tutta una voce. No! Spostati! No, 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 no. Muori. Ah, che culo. Perfetto. Di ciao ciao. Perfetto mica tanto. Mi è andato molto male. Però... Di ciao ciao sto. E se non far l'incazzato. Dammi soldi, va. Devo assolutamente resistere. E dammi la mortosega. Allora... Dai, non è andata malissimo. Stavo per morire. Tutto qua. Perfetto. Forza. Mortoseghiamo. E poi salvo. Devo male... Inseguirmi. Sì, è aperto sto cellulare. Andiamo. Aspetti. Fermo. Sono qui. Aspetti. Agente. Deve portarmi con lei. Detective. Castellanos. Leslie deve essere laggiù. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Oh. Yeah. Boh. Boh, ragazzi. Ci vediamo al prossimo capitolo. Questo è andato. Non è andato malissimo. Ho fatto qualche errore. Vabbè, dai. Perdonatemi. E ci vediamo al quarto capitolo. Un bacione. Ciao, ragazzi.